... Gentili telespettatori, buonasera a tutti, pace bene dal vostro padre Ugolino. Vi parliamo questa sera da Montesenario. Chi sale oggi sulla cima di Montesenario vi trova un grande convento che ha presso poco l'aspetto di una grandiosa abbazia. Ci vive una comunità di frati, i Servi di Maria. Non si tratta di inquilini recenti o subentrati. Vi abitano, salvo parentesi, dovuta a restauri o a coatto abbandono, da quando Montesenario, per così dire, è entrato nella storia. E cioè dal 1240, quando alcuni frati salirono su questa cima, desiderosi di santità. Da quel ceppo iniziale, nacque un ordine religioso che oggi è distribuito in quattro continenti e ventidue nazioni. Per oltre sette secoli, Montesenario, è rimasto il tronco di questa famiglia religiosa dai molti rami. Ma ora, gentili telespettatori, vogliamo vedere chi sono e cosa fanno i frati di Montesenario, cioè i Servi di Maria. Buonasera padre, lei come si chiama? Padre Luigi De Vittorio. Lei è il superiore di questo convento di Montesenario? Sì, sono qui da tre anni e da un anno sono superiore del convento. Bene, questo convento, come ho detto nella mia introduzione, sembra che risalga al 1240, non è vero? Beh, mi dica un pochettino la storia dei Servi di Maria, in brevi parole. Beh, bisogna rifarsi al periodo medievale in cui ci fu una fioritura di vita religiosa e di ordini come i Francescani, i Domenicani, e a breve distanza da questi sorse anche l'ordine dei Servi di Maria. Si tratta di sette uomini fiorentini, i quali ad un certo momento della loro vita lasciarono i commerci, la mercanzia che praticavano le famiglie e decisero di riunirsi in vita comunitaria, prima fuori delle mura della città e poi quassù a Montesenario. Beh, questi uomini sono stati dichiarati tutti quanti santi poco tempo fa, non è vero? Sì, esattamente nel 1888, da Papa Leone XIII. Se io le chiedo qual è la spiritualità dei Servi di Maria, che risposta mi dà lei, scusi? Beh, è una spiritualità che è un po' complessa, ma penso si possa riassumere in tre punti. Prima di tutto la vita comunitaria, cioè la fraternità, la ricerca veramente di questo valore evangelico della fraternità. E in questo proprio i sette santi sono un esempio tipico, perché sono sette uomini che sono riusciti a realizzare nella loro vita veramente una fraternità e in questo senso li ha proprio canonizzati, la Chiesa, come quasi fossero un'unica persona. Poi lo spirito di servizio. Noi ci ispiriamo alla Madonna e abbiamo proprio fin dal tempo dei fondatori l'immagine miracolosa del santuario della Santissima Annunziata e la Madonna che all'angelo dice ecco la serva del Signore sia fatto di me secondo la sua parola. Quindi questo spirito di servizio di Maria per gli uomini è lo spirito di servizio che anche noi servi e vogliamo veramente imitare.